Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti tipo abbracci. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa un'ora. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero, panna per dolci, miele, burro, uovo, vanillina, lievito per dolci, cacao amaro e un pizzico di sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Ruiniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo adesso il burro, il miele, la farina, il mievito, la vanillina, un pizzico di sale, le uova e la panna per dolci. È necessario che la panna sia fresca e non vegetale. Adesso azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5. A questo punto prendiamo a metà dell'impasto, riponiamolo in frigo avvolto nella pellicola trasparente. Dov'è tolto a metà dell'impasto, proseguiamo mettendo il cacao amaro nel restante impasto. Chiudiamo con il coperchio e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 5. Avvolgiamo l'impasto nella pellicola trasparente e posizioniamolo in frigo per mezz'ora. Dopo aver ripreso le due forolle, stacchiamo dei piccoli pezzetti e formiamo dei cilindri. Tagliamoli a tocchetti da 8 cm e mettiamoli da parte. Ripetiamo la stessa cosa con l'impasto scuro. Tagliamo anche questo e andiamo a formare i nostri abbracci. Facciamo due c e li andiamo a incrociare. Facciamo così per tutto il resto del composto. I nostri biscotti poi li andremo a mettere in una teglia rivestita con carta da forno. Dopo aver formato i nostri biscotti andiamo a infornarli in forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti. I biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare prima di servirli. Biscotti tipo abbracci. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!